Che ci fai Gildare De Bono? Una bella crostata con la parmellata di fragole, 350 grammi di farina, 200 grammi di burro, un uovo intero, un tuorlo, 200 grammi di zucchero, 35 ml di succo di limone e la scorza del limone, una vanillina, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. Cominciamo a impastare. Pronta, mezz'ora di riposo, 400 grammi di marmellata di fragole, adesso a forno caldo a 170 per 45 minuti. Guardate che bella, vai, che spettacolo, guardate quanto è bella. Ecco qua, guardate un po'. Eccola qua, pronta da regalare, eh. Speriamo che piaccia e che mi hanno tanti baci belli. Ma certo che gli piace. Bacio a tutti dalla cucina di Gilda. Ciao amori.